Li Wenliang è morto, era il medico che aveva dato un allarme sulla diffusione del coronavirus e non era stato ascoltato, lo rendono noto ai social network spiegando che il medico è morto per il contagio da questo terribile virus. Era un medico cinese molto conosciuto nel nostro paese in Italia ma anche all'estero perché scoprì il misterioso virus che sta spaventando tutto il pianeta. Specialista oculista, aveva capito che il virus si sarebbe diffuso e propagato in maniera piuttosto elevata. Credeva sia il tassi di SARS, a fine dicembre iscrivesse una chat tra colleghi le sue preoccupazioni e fu invitato a stare zitto a tacere. Fu arrestato per procurata allarme e accusò di aver inventato qualcosa che non esisteva ma che in realtà esiste qua. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua di Wenliang, medico cinese, riposi in pace. Amen.